Non si lascia attendere anche l'intervento dell'onorevole agropolese Sabrina Capozzolo in risposta alle dichiarazioni del parlamentare salernitano Angelo Tofalo del Movimento 5 Stelle sull'interrogazione presentata nei giorni scorsi affinché si istituisca una commissione di accesso agli atti del Comune di Agropoli. La Capozzolo, con tono indignato, scrive che per l'ennesima volta vede il Comune di Agropoli legato inaccettabilmente a quello della Camorra. Il Movimento 5 Stelle, con tutta evidenza, continua a scambiare le istituzioni del nostro paese per palcoscenici da osteria, per mettere in scena basse recitucole di propaganda. Ci troviamo ad avere a che fare con persone che praticano l'offesa come cifra della loro diversità, con personaggi irresponsabili che si ergono a paladini di una moralità di cui loro stessi non possono vantarsi, il cui unico scopo è demonizzare ciò che è altro da loro stessi. Così, ancora una volta, sono costretta a leggere direati, dichiarazioni di legittimità e accuse gravi, frutto esclusivo di ricostruzioni perverse che altro non fanno se non infangare il nome e la dignità di un'intera comunità, di tutte le donne e gli uomini della mia città. Da cittadina agropolese, prima ancora che da parlamentare, mi indigno. Non è più tollerabile che si continui a giocare al discredito sul nome della città. Al collega Tofalo e dal Movimento 5 Stelle dico che la politica è una cosa seria, che si confrontino sulle idee e sui programmi, qualora ne siano capaci, e la finiscano una buona volta con questa opera disgustosa di sciacallaggio e di offesa permanente alla città e dal buon nome dei suoi cittadini.